Nello Yemen, un nuovo raid della coalizione a guida saudita ha causato almeno 20 morti e decine di feriti. Il bombardamento è avvenuto nel quartiere di Sukal Hunud a Hodeida, città portuale dell'Ovest controllata dai ribelli Houthi, poche ore dopo che questi ultimi avevano festeggiato il secondo anniversario della conquista della capitale. Hassan Ali, Houthi e l'ex presidente Ali Abdallah Saleh hanno formato un governo non riconosciuto dall'ONU, mentre il sud del paese è controllato dal presidente filosaudita Abd Rabbo Mansur Hadi. Intanto a nord di Sana'a, nell'area di Bani Al-Arit, sono stati distribuiti aiuti umanitari. Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha consegnato farina, olio e legumi a centinaia di persone nell'ambito delle operazioni previste dal Programma Alimentare Mondiale dell'ONU. Secondo le Nazioni Unite il conflitto ha ridotto alla fame la popolazione nella metà delle province iemenite. Grazie.